Ciao a tutti e bentornati in Cucina Colagnese. Oggi cucineremo un gustosissimo plum cake con gli spinaci e il formaggio di capra a dargli quel gusto particolare, ideale per i vostri aperitivi e i vostri brunch con i vostri amici. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di farina di tipo 1 o tipo 0 che hanno una granulosità leggermente più spessa rispetto a quella 00, se avete in casa quella 00 va bene lo stesso, non vi preoccupate, 60 g di formaggio di capra tagliato a pezzettini piccolini, 100 ml di latte, una bustina di lievito per torte salate, 100 ml di olio vegetale, del pepe, del sale, ci serviranno 200 g di spinaci cotti e sgocciolati, io li ho fatti cuocere in acqua bollente salata, li ho fatti raffreddare sotto acqua fredda e li ho strizzati ben bene dalla loro acqua, ci serviranno 3 uova e 20 g di burro per lo stampo più un pochettino di farina, imburrate e infarinate con questi ultimi due ingredienti che avevo dato, lo stampo e mettiamoci subito a cucinare, ah dimenticavo, preriscaldate anche il forno a 180 gradi per questa ricetta potete utilizzare anche uno sbattitore manuale, io utilizzerò la prioritaria oggi, vi farò vedere come si prepara, ma lo stesso procedimento vale anche con lo sbattitore manuale, come prima cosa dobbiamo andare a inserire le uova all'interno della ciotola e dobbiamo montarle e far prendere aria perché devono diventare belle sfumose e aiosi accendiamo la macchina e dobbiamo montarle sia con lo sbattitore manuale che con la planetaria a velocità abbastanza sostenuta, 4-5 per circa 2 minuti, 2-3 minuti abbondanti spegniamo un attimo la macchina alziamo il coprechio andiamo ad aggiungere ora il latte l'olio un pizzico di sale non esagerate perché comunque il formaggio di capra è bello saporito e il pepe chiudiamo la macchina e mescoliamo tutti i lieviti e nel frattempo andiamo a setacciare e a mescolare bene insieme il lievito e la farina diminuite pure la velocità, adesso non c'è bisogno che la velocità sia eccessiva mescoliamo il lievito nella farina setacciata e andiamo ad aggiungerlo cucchiaio dopo cucchiaio al nostro composto di uova andiamo ad aggiungere ora il formaggio di capra all'interno lasciamo mescolare qualche secondo e poi l'ultimo ingrediente, gli spinaci l'impasto è pronto andiamo ad inserirlo nello stampo da plum cake ho inserito il composto ottenuto direttamente dentro lo stampo da plum cake imburrato e infarinato in precedenza rivellate bene leggermente il vostro composto e infornatelo in un forno già caldo a 180 gradi per una cinquantina di minuti ci vediamo dopo per sederci tutti a tavola eccoci qui, il nostro plum cake è pronto per essere gustato ha cotto esattamente 50 minuti a 180 gradi per verificare che fosse cotto ho fatto la prova dello stecchetto quello lungo mi raccomando se esce fuori asciutto è pronto per essere gustato potete servirlo caldo ma anche freddo vi assicuro è buonissimo spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta se la rifate mandatemi una foto taggatemi su instagram sulla pagina facebook di Cucina con Agnese o mandatemi anche un'email a agnesechiocciolacucinaconagnese.it vi farebbe un sacco piacere rivedere le vostre creazioni ci vediamo domenica prossima, ciao! inviaci richieste e suggerimenti a agnesechiocciolacucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it grazie grazie grazie